Momenti di panico a pomeriggio 5. Durante il programma condotto da Barbara D'Urso, un uomo col volto coperto, è entrato in studio creando agitazione tra il pubblico presente e costringendo la conduttrice a mandare immediatamente la pubblicità. Momenti durante i quali i telespettatori si sono chiesti cosa fosse successo. Poi rientrati in studio è stata la stessa D'Urso a spiegare l'accaduto. Vi chiedo scusa ma con la coda dell'occhio mi ero accorta che era entrata una persona che aveva il volto completamente coperto da una maschera e quindi ho cercato di tenere sotto controllo la cosa. L'uomo è stato subito bloccato dalla sicurezza, è stato portato fuori dallo studio e ora stanno cercando di capire di chi si trattasse, dichiara ancora la conduttrice ancora visibilmente agitata. Vai nella descrizione, clicca sul link per vedere il video. Grazie a tutti!